Volete fare un tuffo nel passato? Oggi a Vicchio di Mugello la ciclo storica del Mugello. Qui scoprirete le bici storiche in una mostra sia fotografica ma anche in esposizione temporanea di quelle che sono le bici storiche di Floriano. Si tratta di pezzi originali che ci conducono in un viaggio arritroso nel tempo, negli antichi mestieri. I preti, i pompieri, i bersaglieri, i medici, i sciabattini, arrotini, tazzisti, pittori, norcini, lattai, stagnai, cantastori, tutte le bici storiche sono accessoriate da Marchingegni d'Eco. Quella del prete è una bici da donna perché i preti portavano vestiti con sottana, con tanto di pennello con secchiello dell'acqua sana. Il sciabattino ti risolava le scarpe e gli zoccoli al bisogno e c'è anche la bici del pittore tutta accessorata per uscire per dipingere in pennello. Il barbiere ti raggiungeva ovunque avevi bisogno per farti barba e capelli.